Buongiorno a tutti, in questo video volevo parlare dei video che sono usciti in questi giorni ovvero ho parlato di Jebo Kaleji, di Burkini che pochi sanno i fondamentalisti hanno vietato quindi tutta la polemica europea sul Burkini rimane a livello europeo perché ripeto i fondamentalisti l'hanno proibito nel Corano non è prescritto questo divieto del Burkini i fondamentalisti vanno anche contro il Corano, vanno contro tutto infatti loro pretendono che la donna sia completamente velata, che si vedano soltanto gli occhi ora io mi chiedo, come fa una donna che indossa il cosiddetto niqab, cioè quel velo integrale con questo caldo io vengo dall'orto, l'accessore, caldo, come si fa? cioè anche l'impaccio a muoversi, io ho messo un semplice giacchettino quindi in poche parole l'esagerazione fondamentalista che non rispetta neanche il versetto 31 della Sura 24 procura soltanto danno in questi giorni usciranno altri video su questo argomento che Dio vi benedica e il suo Messia Gesù sia sempre lodato Amen